Siamo ormai in piena estate, la stagione più calda e spenserata dell'anno, e a tenerci compagnia in questo periodo, tra una giornata al mare e una serata con gli amici, vuole pensarci il giovane musicista grottese Salvatore Di Maggio, in arte De Magno, con il suo nuovo singolo dal titolo Granita Limone. Il brano è pubblico su diverse piattaforme dalla fine di giugno e percorre la scia musicale del commerciale che tanto va forte in estate, con temi freschi e merodie leggere. Si tratta di una nuova esperienza per il giovane cantante, che si cimenta come solista. Di Maggio è sempre stato vicino alla musica, fin da bambino sua madre lo ha indirizzato in questa direzione. Nel 2008 la sua carriera inizia all'interno di una cover band hard rock del posto, per poi avvicinarsi anche ad altri generi musicali, quali la musica d'autore, il pop e l'elettronica. Nel 2010 si iscrive all'Accademia di Musica Moderna di Racalmuto, per affinare le sue abilità con il pianoforte. Intanto fonda una band con la quale suonano i pub agrigentini. Salvatore ha scritto la sua prima canzone a 13 anni. Durante la sua esperienza universitaria, iniziata nel 2013, inizia a registrare demo delle canzoni scritte fino a quel momento, e si dedica alla scrittura e alla creazione di nuovi brani. Quest'estate De Maggio ha deciso infine di cimentarsi come solista in un progetto che porterà, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, alla pubblicazione del suo primo disco di Neviti. Granita Limone è dunque il singolo desordio dell'artista, che nonostante il caldo si sta impegnando duramente per portare un'aria di freschezza in quanti lo ascoltano.